Non riesco ancora a capire per quanto è avvenuto domenica, sono un po' con i pensieri lì, però pian piano mi sto riprendendo. Ecco Presidente, tutti vorrebbero sapere da lei se tra questi pensieri c'è anche questa domanda. Zomer l'ha fatto perché ha avuto un attimo di follia o l'ha fatto per un altro motivo che tutti speriamo non sia quello, visto che si sta parlando tanto di calcio scommesso in questo periodo? No, io non posso credere, perché c'è chi lo abbia fatto per motivi di calcio scommesso eccetera. No, io spero e anzi sono convinto che l'ha fatto così in una situazione di stress, di una situazione molto particolare, però non si capisce lo stesso. La società che tipo di provvedimenti prenderà o ha già preso nei confronti di Zomer? No, non abbiamo preso ancora nessuna, non ho fatto nessuna scelta, però nei prossimi tempi lo faremo. Sottiro il retrocesso dopo tantissimi anni di grande cavalcata dalla promozione della Serie C1, così possiamo chiamarla, adesso che cosa succede? Che le cose iniziano ad andare purtroppo male? Ma adesso bisogna vedere come si mettono le cose per quanto riguarda il calcio scommesso, poi anche per quanto riguarda le altre società, sentiamo che parecchie società sono in difficoltà economiche, perciò anche in questo purtroppo adesso dobbiamo aspettare, aspettare come si mettono le cose, fin lì è difficile a programmare. Sottotitoli Sottotitoli